o la luciadores e portatori sani di labirintite ben ritrovati dal vostro silver qui su the witness siamo in questa fantastica torre di cui avevo anche tralasciato scusate un attimo la scala nel frattempo ho preso nota dei nostri passi o abbiamo tralasciato un casino di roba allora questo ha una maschera tipo da scherma quindi questa in teoria è un'esercitazione oh we 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 wait fantastico ok con calma stiamo attraversando un po troppe epoche i boasted among men that i had known you they see your pictures and all works of mine they come and ask me who is he i know not how to answer them i say indeed i cannot tell they blame me and they scorn and you sit there smiling i put my tales of you into lasting songs the secret cash is out from my heart they come and ask me tell me all your meanings i know not how to answer them i say ah io intanto proseguo a sbirciare mentre leggo e allora io intanto credo che per uscire da questo specie di labirinto basti fare una cosa del genere giusto e per resettarlo devo schiacciare qui o per attivarlo ah ok ci sono i pallini ci sono i pallini ci sono i pallini quindi ok allora no facciamo così solito trucco del silver carta e penna si parte dall'angolo basso si può no non si può si deve salire si sale di 2 sinistra su destra su sinistra 2 si scende di alt 2 sinistra giu destra giu sinistra 2 su fino in cima destra e si esce perfetto allora abbiamo detto totalmente tanti puzzle scarabocchiati su questo foglio che mi sto perdendo allora qui ok 1 ok 2 ok 2 di nuovo però se mi oriento così forse me va beh che tanto oramai ci siamo capiti nevo a zizzago fra l'altro ci permette di controllare io ho preso i pallini sono fico va bene ok che bello questo di puzzle sono curioso di vedere cosa attivo però adesso è quando è che abbiamo fatto quel pezzetto qui cazzarola non vorrei essermi sputtanato tutto quanto e di doverlo rifare ok si sono calpestate a bambera sono cattivissime allora così perché poi di per sé non è difficile dai è anche facilmente memorizzabile forse abbiamo preso una una diagonale errata no ok ci siamo no mi indicava fino alla fine quindi di qua ok non ho bisogno di attivarlo salve occhiali del sole e spada che cosa curiosa ancora più grande qui dobbiamo dovremo dividere i colori e non possiamo fare quello che avevo in mente ho capito ma scusa eh se dovesse essere solo un dividere i colori potrebbe bastare anche una cosa del genere no vediamo in effetti dove posso aver sbagliato in effetti vediamo anche dove posso andare o siamo a ridosso della nave fico quello è palesemente un'altra cosa che si potrà unire poi forse molto prima di di quel poi che credevo perché ormai ci siamo vediamo ah però c'è la pianta dinanzi ah quindi in teoria potremmo anche scendere ok allora qui c'è un tizio coi sacchi una sorta di babbo natale che si ciula la roba diciamo che possiamo avere uno sguardo sul futuro quello che ci attende oh ok è da qui ah ho capito quella impalcatura l'avevamo vista dalla barchetta figosa davvero figosa e la c'è un divano una poltrona quindi possiamo scendere ulteriormente e possiamo anche salire sulla nave ok vediamo se è abbastanza così no ma possiamo salire sulla poltrona no quindi in teoria questo puzzle non è risolvibile o comunque sia ci basta una cosa del genere no oh porca galera hm allora è un puzzle danneggiato chi si siede qui che guarda l'orizzonte mi sa che dovremmo far cambiare qualcosa qui nell'ambiente perchè se no non avremo un vero e proprio libero accesso a questa soluzione salvo che si tratti di un'altra cosa vediamo possiamo anche salire eh bellissimo come questo gioco quando parti con una certezza poi ti ritrovi a vagare sul reddito di una nave incagliata non so dove non so perché e la possiamo perlustrare fino a quando fino a che punto possiamo percorrerla e cosa ci attende su questo percorso stavamo esplorando il castello lo so però ogni cosa ci porta da un'altra parte vedete e questi buchi sono scusatemi ma quanto meno sospetti e infatti vedete sono attivabili sì ma al tempo stesso no no ok almeno sono contento di aver risolto qualcosa anche in questo episodio dobbiamo dargli un senso perfetto poi chissà perché questa scelta tecnica no non è perfetto così lo sembrerebbe ok ok e stavo dicendo chissà perché questa scelta molto sembrano quasi degli spermatozoi devo usare un'associazione di forma guardate sembrano essercene anche nella stiva della nave così ancora più ancora più tondo mmm questo ci indica che siamo sulla strada giusta ma non ancora corretta del tutto no ci sta dicendo di allontanarci no non ci sta dicendo questo nemmeno questo e men che meno di risolverlo da altrove qui quei due legnetti danno fastidio no dobbiamo essere più vicini addirittura quanto più vicini perché così smette di essere buco allora bello però pignolo molto bello ma molto pignolo ragazzo mio eh ok basta un semplice passo in più ok hai ottenuto di farci vedere tutto della nave addirittura tre simboli concentrici proprio qui sono una sorta di bonus in cui il gioco voleva sperava di riuscire a farci ammattire in cerca di qualcosa che non avremmo trovato perché era tutto raggruppato in un punto che magari in teoria neanche salve neanche avremmo tentato di risolvere allora questo dovremmo risolverlo da qui allora l'uscita è di là quindi due lati comincio a capire il senso di questa cosa se fossimo passati di qui non sarebbe stato corretto giusto? infatti allora due triangoli vuol dire due lati devono toccare con la linea perfetto io non ho neanche idea di quanti ce ne siano e di cosa sblocchino cosa significhino ne abbiamo risolti punto allora usiamo anche questi buchi per guardar dentro troveremo altra roba su questa nave io credo proprio di sì perché pare nasconderne veramente troppo non pensavo veramente che avremmo trovato roba utile anche qui e non mi meraviglierei anche qui di trovare statue oltre che la nostra ombra sul fondale siamo affascinati stiamo esplorando un relitto sì vabbè siamo affascinati io sono affascinato voi non so io molto vabbè possiamo addirittura entrarvi all'interno possiamo salire c'è tanta roba tanta roba qui bene 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 ragazzuoli che dire ci si è spalancato un mondo al castello logicamente ci torneremo e noi ci salutiamo qui davanti al relitto e ci vediamo nel prossimo video dove finiremo l'esplorazione di questa nave arenata alla prossima ciao ciao